Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi abbiamo un nuovo ospite speciale, il mio fidanzato, Sam, e l'abbiamo invitato per fare il video in cui li mettiamo alla prova, i due fratelli, e quindi vedremo quale dei due mi conosce meglio, il mio ragazzo o mia cognata, e quindi vi farò delle domande per vedere chi mi conosce meglio. Quindi niente, questo, vediamo chi è veramente, come si dice, vediamo, vediamo. Allora, la regola è che vi dovete prenotare, quindi ognuno di voi deve scegliere un suono per prenotarsi. E tu qual è, amore? B. E tu? Eh. Ok, quindi quando io faccio la domanda, chi pensa di sapere la risposta deve fare il verso. Anzi, ho quel titititititit, questo titititit che me lo riporto. Ok, così chi pensa di sapere la domanda fa questo verso e ha la possibilità di rispondere. Se risponde in modo giusto, allora il punto va a chi ha risposto. Chiaro? Chiaro, chiaro. Ok. Procediamo. Vediamo. Allora. Quanto sono alta? B. Un metro e cinquanta. Sbagliato. Quattro. Un metro e sessanta. Sbagliato. Cinquantotto. Eh sì, non è che lo puoi cambiare, ormai l'hai detto. Un metro e cinquantotto. Un metro e cinquantotto. Un metro e cinquantotto. Un metro e cinquantotto. B. Sferebassa. Famoso. È sbagliato, Monica, mi dispiace. Eh sì, sì, sì. Quindi il punto va? Monica, come lo ha detto prima, lui si è approfittato di questa cosa. Ok, dai. Un punto a testa e prima non l'ha fatto nessuno. Quasi io. Quasi tu? E poi il numero e cinquantotto che l'acqua. Il mio cibo preferito. Bip. Sushi. Proprio. Ok. Quindi uno a due. Questa cosa è qua. Titi, 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 titi. Eh, tu ti sei scelta, sto solo così lungo. Eh, non vuoi che ti 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 ti. Dai, questa è anche facile. La mia bevanda preferita. Bip. Maribu e coca. Bevanda. Bevanda. No, drink. Bip. Bitter. Bravo. Bravo, siamo. Ti dovevo dire il drink preferito. Allora la bevanda. Bevanda in generale. Che bitter. Che tipologia di bitter. Possibilmente bianco. Va bene anche quello della blues. Qualsiasi bitter. Il mio numero fortunato. Bip. L'undici. Bravo. Ce l'avete pensato però. Non siete preparati. Beh, volevo quasi dire la data di franco però. Eh, quella non si dice. Quella è privata. Il mio colore. Allora, il mio colore preferito Per vestirmi. Bip. Rosa. No. Ti 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 nero. Bravo, Monica. Ho detto per vestirmi. Non in generale. Allora. La mia meta da sogno per un viaggio. Oddio, aspetta che sia là. Eh, come si chiama? Ti 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 ti. Ti ti ti. Aspetta che non mi viene. Aspetta che è tipo Carai, bisogna le cose su. Quelle parti. No. Come si chiama? Che carina. Eh, non è che ho trovato studio. Come si chiama? Tu amore ti arrendi. Oh, oddio. Come si chiama? Non mi ha rinaccia Eva. Sfuggerla pure a me, apposta non mi sono prenotato. Ti sfugge perché mi vuoi portare. Ma che si chiama, no? Non c'è, non sono a punta della lingua. Eh, non mi viene. Bip. Le isole te. Le isole... Le isole mie. Me l'ha venuto. Allora, stanno in America. Eh? Però non mi viene il nome. Le Mauritius. Le Maldive, le Maldive, le Maldive. Le Maldive. Le Maldive. Le Mauritius. Ma questo vai. Quindi siamo 4 a 3. Qual è il mio tipo di pianta preferito? Bip. Piante grasse. Bravo. Ok, poi. Qual è il mio cartone animato preferito? Ti, 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 ti. Ma c'è orso. Qual è un profumo che adoro e che non riesco a fare. Allora, Chanel. Un profumo di Chanel è tipo rosastro, il colore. Ma il nome è un bel amico. Eh, il nome è un bel amico. Il nome è un bel amico. Il nome è un bel amico. Non mi viene il nome. Il nome è un bel amico. Sì, vabbè, però è di Chanel. Ok. Quindi. E poi ha detto il colore del profumo. Rosastro. No, non è. Io non mi ricordo che mi chiede. Chance. 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 No, non mi ricordo che mi chiede. No, non mi ricordo che mi chiede. No, non mi ricordo che mi chiede. Eh, sì. Eh, sì. Sì, sì. Quindi siamo 4 a 4. No. 5 a 4. 5 a 4. Si, è 5 a 4. 5 a 4. Mi spesi, ho sbagliato. Qual è la borsa dei miei sogni? Cia, 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 cia. Allora. La borsa di Saint Laurent Bianca. Delle cinture adorate. No, è il gattore per l'argentale. Vabbè. Ok, quello. Quindi 5 a 5. Questo è il punto decisivo. Questa domanda le giocate tutta. È l'ultimo che mi schierisco. Ti 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 ti. Non hai fatti. Beep. Ah, era la prova. Prova audio. Sì, sì, prova. Qual è la macchina dei miei sogni? Beep. A primo posto una Giulia a quadripoglio verde, possibilmente rossa. Oppure un'Audi RS3. Ottimo direi. Quindi... Chi ha vinto? Lui! Per una volta ha vinto. Allora questo video è giunto al termine con la mia scontata. Monica adesso ci sono dei sconti. Un po' di vacanza. Un po' di vacanza. Ehm, bep. Un po' di vacanza. Quindi non ce la fai a forlo serio. Un po' di vacanza. Un po' di vacanza. Oh no. Ho la madre della sconti. È meglio sdramatizzare questi momenti dubbi della vita. Un po' di vacanza. Quindi... Mi invitiamo ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e a seguirci. Un po' di vacanza. Lui non ce l'ha, lui non lo lasciamo nemmeno. Non è molto sociale. Infatti. Ce l'ha ma non lo usa. Diciamo. 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 Non condivido nulla, ma lo uso per spiare. Ah. Noi mi spia ma non condivido. Sturker. Ah. Sturker. Ok. Quindi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.